Grazie per aver organizzato questo evento che ci ha fatto riflettere, a mio parere, su due piani diversi. Un piano è quello del significato universale di quanto abbiamo visto, perché coloro che sono stati uccisi a Kojali, ma nel conflitto del Nagorno-Karabakh, con le loro storie che abbiamo sentito in modo così toccante questa sera, parlano a tutti in qualsiasi parte del mondo, toccano il nostro animo, toccano la nostra mente e le loro vite spezzate sono qualcosa che richiede l'attenzione di tutti in generale. Io in modo particolare ho sentito molto la storia di Ainura, la storia inventata, la storia che non si è potuta realizzare, perché per il poco che so delle lingue del gruppo, della lingua zera, quel nome significa raggio di luna e questi raggi di luna che si sono spenti, questi raggi di vita che non si sono sviluppati, sono la parte universale del messaggio di questa sera. Poi da persona che si occupa di diritto internazionale e quindi di aspetti giuridici precisi che devono essere quantificati, valutati uno per uno, io sono andato a pensare agli aspetti concreti di quello che è successo a Kojali e lì c'è bisogno, lo diciamo da anni, lo diciamo con i convegni che abbiamo organizzato in passato, con le testimonianze di esperti, di accademici, c'è bisogno di inchieste internazionali, c'è bisogno di una corte internazionale che possa giudicare quello che a Kojali è accaduto. Ci sono stati altri atti di genocidio nella storia europea degli ultimi decenni. Tutti ricordano il caso di Srebrenica nel conflitto della ex Jugoslavia. Per quello c'è stato il Tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia. su Kojali questo non è accaduto. Esistono naturalmente delle commissioni internazionali, esistono tentativi di arrivare ad accordi di pace che come abbiamo sentito si fermano di fronte all'ostinazione della parte armena a non recedere dai territori che è occupato. E non si tratta soltanto del Nagorno-Karavacca ma credo di altre sette province della Gerbejana. Ebbene c'è, a mio parere, bisogno di giungere comunque a un giudizio internazionale. L'Italia potrebbe fare sicuramente qualcosa di più. Il senatore Rivina ci ha detto che è possibile fare qualcosa in Parlamento anche se sarà molto difficile. Ma l'Italia l'anno prossimo avrà la presidenza di turno dell'OSCE, dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, di cui fanno parte l'Azerbaijan, l'Armenia, la Federazione russa, che non dimentichiamo ha un ruolo molto importante in quell'area. Io auspico che l'Italia possa esercitare la sua presidenza dell'OSCE l'anno prossimo, ma già ora fa parte della cosiddetta troica, in modo tale da fare tornare un'attenzione precisa, concreta, giuridicamente rilevante sulla questione del Nagorno-Karabakh e in particolare su quanto è avvenuto a Kojali. Infine, la LIDU, la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, continuerà naturalmente a occuparsi di questa materia, come di altri casi di tale drammatica importanza nel mondo. E siamo a disposizione magari per ripetere in altre città italiane l'evento di questa sera, che avvalendosi anche di una bellissima musica, del lavoro degli attori e soprattutto di queste storie così bene ricostruite, può parlare a molte persone che potranno svolgere un ruolo di diffusione della conoscenza e magari di promozione della verità su Kojali. Vi ringrazio. Grazie.